Eccoci nella partita che chiude il campionato, la decima giornata di ritorno, la partita tra quinta B e quarta C il trato di 1-0 per la quinta B, la rete di Desortis, sigla 1-0 andiamo qui Germano, si porta la palla fuori, però comunque ha trovato la porta con un tiro molto spettacolare andiamo qui Desortis di testa, forse è un po' troppo basso per questa palla qui, il quartiere, Germano prende palla sulla fascia, cerca di darla in mezzo, viene fermato Germano, di tacco, Baldazzi, ha provato questo passaggio molto fibbo San Nino, nuovo acquisto della quinta B Cantilmo, il tunnel del passaggio, attenzione, il gol di Cantilmo con una deviazione di Donato si donna il 2-0 vantaggio che sembra man mano sempre più ampliarsi Mele per Spoti la data di nuovo per Mele, anche proprio viene intercettato da San Nino il pallone San Nino sembra essere sicuro di sé quest'oggi attenzione da una vera e propria battaglia per il posto della palla attenzione, Spoti ci prova anche Cantilmo quindi da B sembra avere il totale contro la palla attenzione, il tunnel di Cantilmo su Melo fa l'olaterale i due si sono appena salutati è incredibile attenzione, Rezzutella forse c'era una trattenuta L'abbitola non ha visto niente è sortissimo verso il Nino anzi ma qui si vuole troveri un passaggio per Antonio che vuole fare la sua giocata alla Raffael attenzione un aggancio di Rez della che la dà per le sponda per Desortis e contro là di nuovo uno scambio fra i due Estella la fascia viene fermata però da Spot un bellissimo Spot in difesa Estella per Desortis per provare il destro Maliscia attenzione il doppio sombrero fatto da Zella Germano da Desortis si ripete la vada non è entrata più Cantelmo un attimo un attimo prestazione finora Germano per il portiere momentaneamente Baldazzi Germano attenzione Donato prolunga per Miele ma sbaglia completamente il passaggio Spot il destro al lato si incarica della rimessa giocato lungo per San Nino la metà a terra viene però fermato sbaglia il controllo Spoto Spoti Spoti prova la conclusione ma viene deviata calcio d'angolo seguiamo quest'ultima azione per poi chiudere il collegamento attenzione falla in mezzo ci diamo a cui il collegamento per quanto riguarda del primo 0 il 2 a 0 della quinta B contro la quarta C eccoci nel secondo tempo della partita quinta B quarta C stato di 4 a 2 appena segnato Antonio Baldazzi si mandò il secondo gol della quarta C partita che comunque sembra essere da un solo lato possibiva per la quinta B vediamo qui Baldazzi su lui San Nino sbagliano l'appoggio non preoccupare la palla attenzione sbaglia metta la terra San Nino con calma perdono palla attenzione metta la terra probabilmente con un braccio ma non chiama niente attenzione cantiamo in copertura lancia Rezzetella che però commette un errore cantilmo da fuori ci prova Baldazzi allora arriva a chi il contropiede per Cermano la palla e rendizza la gente che sbaglia trova San Nino attenzione il contropiede Cermano rispetta troppo che viene fermato da un cantilmo che quest'oggi in difesa sembra fuioso nuovo calcio d'angolo ma che è mezzo Rezzetella perde palla anzi no la fortuna è con lui quest'oggi fenomeno della quinta big non ha ancora siglato un gol però prima nelle dichiarazioni di Spogliato gli ha affermato di poter segnare una tripletta Rezzetella attenzione ecco la palla e il destro va sulla curva tutti avanti a ridere della pesantissima umiliazione subita da subita dalla Rezzetella Baldazzi la toccata è rossa è rossa è rossa Baldazzi attenzione ci prova Rezzetella ne approfitta poi Baldazzi forse con un braccio anzi l'abito non chiama niente l'abito forse ha bisogno di un paio di occhiali i giocatori proseguono Rezzetella attenzione metti a sedere metti a sedere Baldazzi ma l'abito chiama fallo punizione in due forse ho in uno non mi ricordo in due in due al limite no qui il Baldazzi è scivolato no qui Rezzetella che parla con Cantelno forse è uno schema probabilmente sarà così la spaggia la rezzetella il sinistro la rete di sinistro la punita B prolunga il vantaggio l'azione è donato la quinta quarta C sembra comunque non avere un'organizzazione abbastanza solida sembra che ognuno faccia ciò che voglia mille fa lunga per donato per per spoty scusa donato la distanza seguiamo quest'ultima azione poi chiuderemo il collegamento Sanino forse chiama lo schema vede Rezzetella una donata in difesa che lo chiude c'è Fusco la conclusione Antonio Amato lo para la para chiudiamo qui il collegamento del primo tempo di questa del secondo tempo di questa spettacolare partita ed eccoci qui con i migliori in campo di questa partita Rossi e Fusco Rossi autore del primo poker nella storia nella sua vita ti sei emozionato per questi sei emozionato per questi quattro gol che hanno portato l'altra squadra alla vittoria uno dei quali bellissimo proprio uguale a quello di Sladhan che ha vinto il premio nel 2013 stop e pallonetto di prima non ti ho chiesto a chi la dedichi comunque va bene va bene Fusco autore di una grande partita sei uno dei pochi giocatori che in questo torneo mette in difficoltà Amato grazie alla potenza dei due tipi è la precisione oggi autore di un paio di gol veramente belli ora ci sono le fasi finali il difetto della tua squadra ho messo il capito troppo spreconi non mangiare troppi gol quali sono i propositi per queste fasi finali? eh non si sa perché se si farebbero tutti quei gol che ci mangiamo potremmo buttare anche a qualcosa se si migliora si può fare qualcosa in più per la vittoria finale ci siete o non ci siete? sarebbe bello però è difficile perché le squadre sono competitive sarebbe bello prendere per il terzo anno consecutivo la squadra di Grimaldi però va bene il piacere è mio dal Maracana Fusco e Rossi guardate che bello grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti